La partita dei tamponi è una partita per noi irrinunciabile, mi spiace che ci sia qualcuno che dice che stiamo sbagliando tutto, ma noi sinceramente se ne strafreghiamo. Non usa giri di parole Luca Zaia nell'annunciare che la Regione Veneto intende effettuare almeno 11.000 tamponi al giorno, anche on the road. Per ogni positivo che troviamo dice avremo 10 contagiati di meno. Questo perché più casi isoliamo più sicurezza creiamo. Una posizione è quella del Governatore del Veneto supportata dal Comitato Scientifico Regionale che va decisamente in senso opposto alle convinzioni dell'Istituto Superiore di Sanità. Il Presidente Silvio Brusaferro è infatti scettico sull'utilità del maxi monitoraggio, un'attività sostiene non coordinata con l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Attenzione però, replica Luca Zaia, gli asintomatici sono una formidabile fonte di contagio. A Voe Euganeo, ad esempio, il primo focolaio in Veneto all'inizio dell'emergenza, il 60% degli abitanti infetti non manifestava nessuno dei sintomi del Covid-19. Aver effettuato per ben due volte i tamponi a tutti i 3.300 abitanti ha consentito, ricorda il Governatore della Regione, di contenere il diffondersi del virus.